L'ultimo miglio della piena intermodalità del porto di Gioia Tauro è compiuto. Anche il terminalista Automar S.p.A. che gestisce il trasbordo delle autovetture nello scalo cadabrese si è dotato di una propria asta ferroviaria per permettere ai treni di giungere direttamente nell'aria interna della propria concessione. Con l'ingresso del primo convoio ferroviario carico di furgoni si è inaugurata la piena infrastrutturazione del porto completamente collegata al mercato interno. Si tratta di un'infrastruttura considerata indispensabile da Automar che riceve via treno le autovetture realizzate dal marchio Stellantis che attraverso Gioia Tauro raggiungono il mercato internazionale. Nonostante la crisi del settore che vede l'azienda partecipata al 40% da Grimaldi lavorare in regime di cassa integrazione al 25% non è venuta meno la sua ferma volontà di continuare ad investire nello scalo cadabrese. È stato un lavoro di squadra portato avanti anche da RFI e dall'azienda Ventura che hanno chiuso il cantiere in tempi record. Allo stesso tempo dotandosi di una propria infrastruttura ferroviaria Automar ha così reso libera l'aria datale in uso da MedCenter Terminal Container che potrà ora agevolmente riutilizzarla e procedere alla sua manutenzione. Per il porto di Gioia Tauro si tratta di un percorso importante di sviluppo verso la sua piena intermodalità che vedrà aggiungere un programmato numero di treni nel corso delle prossime settimane. Ma per chiudere il cerchio della fattiva collaborazione tra pubblico e privato e al fine di garantire un'ulteriore efficienza delle operazioni ferroviarie dello scalo il presidente dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio Agostinelli lancia l'invito a Rete Ferroviaria Italiana affinché possa completare generalmente i lavori di elettrificazione e manutenzione del raccordo ferroviario di San Ferdinando che collega lo scalo alla Rete Nazionale di Rosarno.